Perché due alpinisti sono in silenzio al primo incontro? Perché hanno paura a rompere il ghiaccio? Spiegazione Il ghiaccio è acqua allo stato solido Rompere il ghiaccio in questo caso vuol dire cercare una comunicazione Spesso quando si parla fra due persone non si sanno interessi in comune Si utilizzano degli argomenti per capire se vi sono degli elementi in comune Fra una persona e un'altra per poter iniziare la comunicazione Rompere il ghiaccio vuol dire in questo caso cercare una comunicazione I due alpinisti rimangono in silenzio perché hanno paura di rompere il ghiaccio Hanno paura di parlare fra loro Ciao ciao